Oggi il 23 ottobre andano a Malapalemmo per me in cazza, ancora una volta contro la Germina, ancora una volta contro il governo Berlusconi, in solidarietà e lavoratori in lotta che oggi si scioperano a livello nazionale con un corteo a Roma, abbiamo voluto replicare anche qui con una manifestazione come studenti autorganizzati perché per esempio oggi il ministro Gemini portava in Consiglio del Ministro la soposta di riformare l'università, pensiamo sia necessario dare una risposta immediata perché questi signori stanno giocando sul nostro futuro e quindi crediamo che un movimento di protesta come quello dell'anno scorso, più forte di quello dell'anno scorso, sia più che necessario in questa città come a livello nazionale.